il CIO fra dieci anni beh sicuramente difficile immaginarlo sicuro deve parlare sempre di più linguaggio del business e nello stesso tempo tradurre quello che è il linguaggio tecnologico questo per essere un agevolatore all'interno di quelli che sono i processi aziendali che devono per forza da un lato seguire il business e dall'altro seguire l'evoluzione tecnologica quindi io lo vedo come un facilitatore